Ha detto bene Dario, infatti i Volkswagen Bank sono tutti colleghi di lavoro del gruppo Volkswagen, quindi sono sicuramente poco allenati, quindi baso tutto quanto sulla partita poi settimanale, quindi spesso volentieri qualche azione un po' improvvisata. I Murati Dentro invece ricordiamo che sono tutti i tifosi dell'Inter, l'Inter Club Murati Dentro, facciamo parte della forma ufficiale dell'FC Inter e anche loro appunto, anche se ogni tanto qualche elemento lo fanno, ma comunque spesso volentieri si trovano solo in settimana per le partite, quindi può essere accettato il fatto che ogni tanto ci sono un po' di approssimazione sui terreni gioci. Infatti vediamo anche uno stagione qui dell'Inter Club www.murati-dentro.com, visitate anche il loro sito, non solo quello di Sportam Milano. Il calcio di punizione ha pochissimi minuti dal termine di questo primo tempo, ci sono i piedi buoni di Boneita, ma anche la potenza da parte dei propri compagni di Cavalli per esempio, ma c'è anche sul pallone Pappellari. Vediamo chi è che parati ha, Boneita parte lui, grande intervento che ha respinto la palla e poi ancora un grandissimo intervento da parte di Grossi che ha respinto il calcio di punizione veleloso di Boneita. Una pallonbella che deve aver superato la barriera, però ha intuito lo stesso potere estremo difensore di Grossi e poi sulla respinta il numero 7 Nafazzoni non è riuscito a ribadire in rete. Un altro intervento di Grossi.